Buon pomeriggio a tutti amici, come state? Io sono distrutta, scusatemi tra l'altro l'assenza, stamattina mi sono svegliata presto, dopo aver dormito pochissimo tra l'altro, sono andata a cavallo e tra poco esco e vado a fare delle riprese per un progetto molto bello, tra l'altro sono molto emozionata perché è un progetto internazionale, ora non posso dirvi niente, spero onestamente di potervene parlare perché ci tengo tantissimo, quindi sono molto contenta. Grazie per la visione Sono contentissima perché la famiglia Garnier mi ha mandato una mega Air Food alla banana che contiene tutti i nuovi prodotti della linea shampoo e balsamo di Air Food. Allora, i prodotti sono di formula vegana senza ingredienti di origine animale e sono 98% di ingredienti di origine naturale. Il flacone è fatto di plastica 100% riciclabile che non contiene siliconi per lasciare un tocco naturale ai capelli. Ahimè, tra virgolette, sono una di quelle persone che pensa che le cose belle vadano condivise, quindi amiche, se vi vedete taggate qua sotto, scegliete il vostro prodotto perché ve lo manda a casa. Scegliete il vostro prodotto Scegliete il vostro prodotto Grazie a tutti.